Black Devils contro Bobca Red Bull, il punteggio è di 3 a 0 a favore, adesso il tiro di Fioretto che stava per realizzare un Eurogoal, sicuramente Fioretto non è da ricordare per le sue giocate in fase offensiva ma stava per andare a realizzare l'attenzione Manzo, il numero in mezzo a due, ancora Manzo sfortunato nel rimpallo, spazza tutto, spazza via Fioretto, la rimessa laterale che viene data ai giovani è la Vodka Red Bull, va proprio Manzo a battere questo pallone, palla tesa in mezzo, Fioretto anticipa tutti e mette il pallone fuori rimessa laterale, ancora per i giocatori della Vodka Red Bull, sono ragazzi in casacca Palla che però viene intercettata dalla linea difensiva molto accorta dei Black ricordiamo il punteggio è sempre di 3 a 0, palla in avanti a cercare Costabile, non arriva però il pallone al numero 7 ecco che riceve, ci prova, è il gol, il gol di Carletto Costabile, Black che vanno sul 4 a 0 un po' più, 4 a 0, siglato da Carletto Costabile, tripletta per lui sì sì, ho fischiato ragazzi pallone che si impenna, a voi, a voi, il numero che non riesce a voi, 3 gola giù, è stato destro, il castoro, il calcio d'angolo il castoro non si fida del pallone che usciva fuori quadratura per Costabile, man of the match si può girare, Costabile, attenzione Costabile è solo, Corrostabile ce ne fa due in diretta, due doppietta di Costabile i marcatori sono fischi qui ma Manzo, direttamente alla battuta, palla che viene intercettata i vodka Red Bull stanno subendo le offensive degli avversari vediamo queste ultime azioni prima di interrompere il collegamento pallone che viene, termina fuori, interrompiamo qui il collegamento grazie grazie